Lo scorso 2 agosto il comune di Roseto degli Abruzzi ha proceduto all'estinzione anticipata degli strumenti finanziari derivati SWOP, ad ufficializzarlo evidenziando i vantaggi il vice sindaco Alfonso Montese. Gli SWOP, dice, sono utilizzati per ristrutturare il debito residuo dei mutui di ammortamento diminuendo in buona sostanza l'onere annuale degli stessi sul bilancio. Al contrario di quanto avvenuto per altri comuni, per Roseto l'operazione è stata molto positiva, consentendo all'ente di chiudere in attivo con un guadagno che supera il milione di euro. Si tratta di un obiettivo raggiunto grazie alla professionalità e alla capacità del nostro dirigente di ragioneria Rosaria Ciancaione e dell'allora assessore al bilancio, oggi sindaco, Enio Pavone. L'operazione SWOP, attivata nel 2002, doveva durare fino al 2016 ma le attuali condizioni di mercato finanziario hanno suggerito di estinguerlo anticipatamente. Ci sono state amministrazioni comunali che hanno gestito con poca prudenza lo strumento SWOP, ha commentato il sindaco Enio Pavone. Il comune di Roseto, al contrario, ha avuto la capacità professionale di elaborare un'operazione con rischi piuttosto contenuti per l'ente e questo ci ha consentito oggi di estinguere lo strumento con un guadagno cospicuo. L'estinzione anticipata dello SWOP è costata 59.000 euro, pagati dal comune unitamente alla somma di 52.565 euro per interessi previsti nel piano di ammortamento originario con un guadagno netto per Roseto di 1.138.000 euro. La congruità del prezzo è stata valutata dall'Anci Ifel con la consulenza del professor Cherubini dell'Università di Bologna.